Aaaaaaah Marci ha appena fatto la cacca In realtà no, quello dovrei farlo Vuoi andare? No, ti prego No, era per il video, pensavo stessi registrarlo Vuoi fare un dropper personalizzato? Con la merda Dai, che schifo Raga, ho fatto una bottle flip La riprovo di nuovo Un'altra! Con la merda Oh! 3 di fila 4! L'ho sbagliato Allora, devi fare il tuo dropper o va bene così? No dai, andiamo Salve a tutti Blazers e benvenuti in questo nuovo episodio della Kerenci Dropper In compagnia di Marci Tina e DarkSide Ciao! Sapete perché? Queste voci di questo primo episodio di oggi saranno un po' da persone appena svegli E quindi vogliamo almeno 10.000 mi piace Stiamo registrando di mattina Ci siamo alzati apposta lunedì mattina perché dovevamo registrare Lunedì mattina non c'ha sbatta Però noi ce l'abbiamo Ok? Perché siamo fighi Andiamo a fare i salti Già cominciamo a lavorare Ricordo che le marvellate siamo molto molto vicini quindi ci sta Allora Posso fare una proposta? Raga perché non vedo Senza buttarsi di colpo subito Facciamo un go Mettiamoci sui lati e controlliamo se c'è il water bucket Scusate 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 Questa è una buona tattica Via Tina via Aiuto che spavento raga Hai visto? Niente bucket Niente bucket raga Quindi ci potrebbe essere dell'acqua Io non vedo acqua Non credo che si possa fare un step Sì anche io ho optifile ma non c'è nulla in fondo Proviamo raga l'unica è buttarsi Proviamo tutti e tre Dai tutti e tre Alla pari Ci siamo Scoperto le cose forse vai Ho scoperto le cose Ho scoperto le cose Lo sapevo Lo sapevo anch'io Lo sapevo me lo sentivo dentro Lo sapevo L'ho visto Infatti ho cercato di prenderli al volo Però è stato impossibile raga È difficile Si muove anche raga Bisogna attenersi al centro secondo me Niente No Niente Sarà Troppo bello Come fai a fare il livello del GLM MLG raga MLG No l'avevo preso raga Ti hanno è morto Avete visto che ci sono dei pipistrelli Io sono Occhio a schiacciare troppo presto Che prima che uno non respawne in tempo E fai Fatti casin- Ce lo fa Ce lo fa Ce lo fa Ce lo fa Oddio E mo E scendi E mo scendi Madonna raga che provata No raga Non ci credo Marci No raga Questo non l'accetto No Marci No Mi ha fatto rubare per terra lui Non ho fatto niente E son morto Io sto scendendo queste scalinate Martina Io me le sto ancora caricando Che ne so io Che top sono in fondo Eh vabbè Martina Mi sei morta di fianco sul diamante Sì lo so Guarda lì Non ci riesco dai In consiglio Sì Uh Chi è che l'ha preso? Tina Salve Ti è morto un marci addosso Buon salve Quindi le scale Ce l'abbiamo fatta Yes Beh Come inizio non c'è stato male Next level raga Vai Allora quindi il nuovo livello Livello 12 c'è un po' di tutto Che cos'è una città? No 190 blocchi no 190 Uguale È un paese Un paesino Ci sono andato vicino Raga wait Facciamo la stessa cosa di prima dai Facciamo il trucchettino Ma non è più ansioso andare senza nulla Eccolo Ah ok Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Allora Farlo step by step non è questo il caso credo Cioè non penso sia uno di quelli Proviamolo Eh sì proviamolo Se si toglie il numero mi fa anche un piacere Comunque Come si fa First try Primo tentativo Sai che mi hai giotto l'acqua? Primo Eh sempre è ritornata questa cosa No no ti prego Dopo ho guardato il video che è la cosa più illegale Sai che non ti ho notato proprio Ok comunque Bravo GG Vabbè era una cagata eh Sì era una cagata Siamo scavati nello stesso modo Siamo scavati nello stesso pezzo Ho immaginato di andare in avanti perché Boh ci sta Io hai dato che Martina Fri la faccio dell'isca No dai Che palle Ce la farà Martina Porca miseria non mi metto sto bacche Ma va che da questa altezza arrivi Con una velocità che Cioè ti viene un hype metterlo Ce la farà Vabbè dai secondo livello easy tutto sommato Andiamo al terzo di oggi Dov'è il 13 Pensavo che erano i kibur Invece sono appunto gli slime Ma secondo me è semplicemente acqua da mettere No fammi pensare un attimo Vedi che c'è una silanter Eh ho visto sì Cos'è una silanter? Eh secondo me è tipo è un Uno slime di lato con delle cuffiette o qualcosa del giro Non lo so secondo me da qualche parte bisogna rimbalzare Perché non ha molto senso che sia così Spostati un attimo Spostati Tina Tina spostati Ah Nooo Addirittura due Nooo Non puoi dirmi questo Sono due ragazzi Dai raga va fatto Vai Va fatto Ma fino in fondo Ciaone Non te lo piazza nemmeno regalia Eh no No Non credo sia questione di non piazzare Ma quanto che sia davvero Tosto piazzare Questione di millisecondo Questo livello è un mistero Vogliamo Volete provare leggere l'int Qua abbiamo un indizio raga Ah Davvero MLG on the target Ok c'era un target E qui l'abbiamo intuito Il problema Il target qual è? Le sea lantern Ah quello dici? O c'è un target diverso Io ho provato le sea lantern Ma non ho avuto molta fortuna Secondo me da provare Ci riprovo Ci riproviamo Eh no raga Vado No fermi fermi Se andiamo in interesse quel coso lì Non si fa lo saprecciere Beh Facciamo uno alla volta Spostatevi No Eh ma Non è semplice Dice MLG on the target C'è un target E ti dice Devi Beh ragazzi Se c'è un target è quello È quello dai Più target di quello Proviamo dai Dai Uno alla volta Non sono caduto Era troppo Perché Ho paura poi di non essere Niente Dovevo capire la tecnica Dovevo capire la tecnica Per fare sta cosa Mmm Ho appena scoperto una cosa Sullo slime block c'è scritto Può essere piazzato sulla clay La sea lantern E la lana Ah Quindi il target va bene Però anche la clay E la lana Praticamente lo puoi mettere ovunque Ok Raga l'ho piazzato Mi sa che bisognava piazzarselo per dopo Ho pensato così Cosa? Anch'io Sai che anch'io stavo provando la stessa cosa? Anch'io stavo facendo la stessa cosa Stavo cercando di piazzarlo lontano da me Per vedere se andava giù Oddio ma so Piazzato tu non riesci Marci grazie sei un amico Eh no Eh no Ve lo piazzate voi Aspetta vediamo Dai raga però non usate il mio Bastardi Eh si l'hai messo lo usiamo Scusa Io lo devo mettere lì E io lo uso ok? Vado Vado di scherzi Cerchiamo di piazzare quello in fondo Si ma io lo uso il tuo Ci mancherebbe altro E' troppo lontano Dove cazzo l'hai messo? E' vero piazzane altri lì E' un altro lì Eh Tina Tina No che muori Piazzane altri Allarga la piattaforma Se no moriamo mille volte E come faccia? Marci mi hai spostato Anche a me Ok Aspetti siamo giù un attimo No 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 Ok Fanculo Ah ma è distantissimo Non sembrava Come facciamo? La prima tesi Io No Il primo l'ho piazzato per prima Tina se ti butto giù i distralli E me li metti E' vero ma ce ne piaccia uno guarda Tina Va bene tutto Ma aiutarmi fino a questo punto No l'ha buttato via Ma ci sei pronta e ti butto giù 3 2 Bravo Ce l'ha fatta Eh merda quanto sei in ferro No E' così Oh ce l'ho fatta Ce l'ha merda Uccidiamolo Io l'uccio io faccio un skiller No No non potete No No dai così non vale No così non vale Fermi 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 cos'è Fermi fermi C'è la lava Ma l'uscita non è qui Ma l'uscita non è qui Dai Simo Non fare la merda dai Cosa vuol dire l'uscita non è Io non ho fatto la merda Io ho fatto il livello No raga fermi tutti Andiamo ad ucciderci Prego No non ci credo Siete contenti? Voglio piangere Raga ho scoperto dov'è Ha 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 Anch'io ho scoperto dov'è Dov'è Ok Una cosa buona l'ha fatto Eh dai Se non ci fossi io che stavano scomparendo quelli su Dai Tina vieni Ma Tina secondo me Ma Tina secondo me Io potrei fare tipo Secondo me Tina l'ha capito dove bisogna andare Io sto seguendo Eren non mi rompere le palle Oh che top Forse è un genio Hai visto? Tanto li ho accumulati perché Aspetta però Ho sbrogliato Ok grazie mamma mia Ho buildato la strada Io mica drop io buildo raga Gli li hai tolti? Sei andati via da soli Dai Marci sei una merda T'ho sentito che hai fatto tutta data Eh ho messo quelli che avevo zia Ma ce ne ce l'hai in mano Ce ne hai uno in mano Ce ne hai uno in mano Dai dammi Perché ne ho preso No mi è apparso adesso perché ne avevo due eh Dai mettilo Marci fammi salire Ok raga Dai Marci hai rotto le palle per favore No non ne ho più Dai che palle Andiamo al livello successivo E mo? No la creativa no No mi sono solo tippata da te Questo è cheating Questo è cheating Questo è cheating Questo è cheating Non c'è Non ci sono altre parole per descriverlo Questo è cheating Hai 14 200 blocchi C'è un hit? C'è un hit? Ehm No c'è un hit che puoi fare quando ti spiace che erai al suono Dai raga proviamola così di cattiveria Su via via Ehm vabbè Ci sarà l'acqua lo so Ma lo immaginavo cazzo Qua si e vabbè e vabbè allora e allora la mia tecnica di merda mi permette di farne cose bene però qual è la tua tecnica di merda di morire ma io schiaccio velocissimo ma tolgo anche l'acqua a volte ma non funziona così la devi piazzare quando arrivi è quello il senso di mlg si ma puoi farlo normalmente così non muori ma sbagli tu ma sbagli tu ma scusa ti puoi lamentare che fai sti pirlate mettile basta scusa la togli prima di arrivare col culo a terra oh no sei morto perché sono morto sei morto sei morto sei morto sei morto l'hai migliazzata quando sei morto io it's raining marci alleluia it's raining marci mettere il nervoso io mi ricordo il livello del castello mi mettevate il nervoso ragazzo registrando ragazzo ho fatto tipo 20 film livello 15 con il calderone attenzione sto volando leggere qua fatemi leggere no dobbiamo dobbiamo salire su un cavallo che duecentodieci blocchi pure i tuoni dove sono i cavalli infatti raga ma i cavalli non sono sellati ai tuoni servono per spawnare i cavalli raga è tutto buio sbaglio raga c'è un casino incredibile raga ero sopra sono morto ero sopra ha visto la vita del cavallo ce l'avevo fatta mi ha ucciso lo stesso vado non sono spostato dai ragazzi ma sono sul cavallo morto di nuovo sia anche a me che vedo tra un citato voi non riesco a capire mamma mia attenzione sì io non riesco a capire dove andare a gastro abbiamo fatto sempre basta ok mi devo levare perché i tuoni mi provino e non riesco ad arrivare neanche i cavalli non attenzione martina raggiunge marci il cambio è il sorpasso io te lo dico tina se devi morire per morire potresti gettonarlo boh te lo gettono perché tanto non riesco a farlo non ci arrivo neanche non ci arrivo neanche al cavallo è impossibile sei sicura di sì siamo a metà mappa pensaci bene un solo gettone hai ok allora martina stai ferma ti tippo così non dobbiamo usare la creative perché secondo me si bagga tutto qua martina ha usato il gettone non vedo raga non facciamo ristarto occhio next level qua ragazzi per questo livello è tutto quindi martina ha usato il suo gettone perché la situazione si faceva complessa infatti siamo a 108 morti per tina 100 per marci che ha recuperato e 82 per me sto dicendo per era invece sono io quindi per me quindi ci vediamo nella prossima puntata e vedete che in continua evoluzione la situazione quindi è molto figo chissà chi la spunterà alla fine un saluto da eren blaze ciao a tutti ciao